Buongiorno, prendo un attimo la parola al programma perché vedo tanta gente nuova e quindi volevo dire due parole per la nostra fondazione. Io sono Vincenzo Ruggeri, sono il presidente della fondazione, l'ho fondata appunto e questa fondazione fa restauro perché è stata costituita in nome di una persona morta prematuramente, mia moglie, appunto si chiama Paolo Diometti. Chi volesse iscriversi come nostro amico, noi siamo presenti su Facebook ed anche abbiamo il sito, quindi sul sito c'è una pagina dove ci si può iscrivere e da quel momento riceverete le news e soprattutto gli inviti per tutte le nostre manifestazioni. Ci fa molto piacere che questo ciclo di conferenze sia seguito così tanto e abbia successo da prego e sperato. vi saluto e passo la parola alla direttrice del museo, la dottoressa Andrea Ilarraia. Benvenuti, oggi presentiamo la dottoressa Melasecki, curatrice del museo ebraico romano e la professoressa Davanzo Poli. Entrambe parleranno, Olga Melasecki introdurrà la collezione importantissima, una delle più importanti d'Italia, dei tessuti del museo ebraico, spiegandone anche l'origine e la dottoressa Davanzo Poli invece entrerà proprio nell'argomento dei tessuti. docente della facoltà, docente di storia, tessile di tecniche del restauro e della moda, di tecniche del restauro e docente di moda all'Università di Udine prima, poi a Venezia, curatrice del museo del merletto a Burano, autrice di numerosissime pubblicazioni sul merletto, sui tessuti come l'Atlante dei tessuti del Novecento, gli arazzi della Basilica di San Manacco e costruisce come tutto anche di moltissime mostre. Buon lavoro. Buon lavoro.